Signori benvenuti in un nuovo video di Mr.Ban come sempre sono io non è cambiato niente e oggi parliamo di animali venuti nel quarto episodio di conosciamo gli animali nostrani oggi parleremo per l'appunto del cocchiere del diavolo un animale assai interessante ma direi di bandire le ciance e di partire subito con il video il nome scientifico è ocipus olens mentre il nome comune è cocchiere del diavolo è un coleottero di forma allungata con due potenti mascelle con apertura laterale e una coda che si rizza verso l'avversario quando si sente minacciato presenta una colorazione nera e uniforme su tutto il corpo si ciba di coccinelle porcellini di terra i classici isopodi taglia forbici e in certi casi anche vermi e opiglioni vive in luoghi umidi e odia il sole particolarmente attivo nei mesi di giugno e ottobre è molto vorace ed è dimostrato che in caso di mancanza di cibo può diventare cannibale iniziando una vera e propria lotta per la sopravvivenza in cui il vincitore divora il perdente presenta un carattere estremamente aggressivo e non esita ad attaccare tutto ciò che si muove e che reputa pericoloso quando minacciato apre la bocca e morde con le sue potenti mandibole che gli conferiscono una potente presa in grado di bucare la pelle creando così un morso estremamente doloroso inoltre solleva e tira in avanti la coda che è in grado di spruzzare un liquido particolarmente urticante proprio per questo suo ultimo aspetto viene spesso scambiato per un particolare tipo di scorpione non esita ad attaccare e prende spesso più grande di lui umano compreso si può quindi dire che è un predatore apice in quanto sono molto pochi gli insetti barra animali in grado di cacciarlo infine possiamo dire che secerne uno strano odore per marcare il proprio territorio è inoltre anche in grado di appiattirsi un po come fanno i ragni e presenta due robuste ali ed elitere con cui è in grado di volare mi sembra che non ci sia nient'altro da dire su questo particolare animale molto simpatico ovviamente spero che il video vi sia piaciuto e niente noi ci rimbettiamo ad un prossimo video di animali o di questa interessantissima serie detto questo bella ragazzi passate dal mio profilo instagram così vedete anche in tempo vedete molto prima quali tipi di video caricherò infatti su instagram pubblico sempre le copertine dei video prima di caricarlo quindi a dare instagram così siete aggiornati su tutto brava ragazzi